Ehi là, Big Genius! Come procede l'allenamento per il Talk E? Non disperare, non mollare, ecco qui per te un'altra fantastica simulazione di Fisica! Ciao, sono Matteo, anche noto come Super Matti, il tuo superiore scientifico sempre a portata di Click, pronto a darti una mano sia in matematica che in fisica. E oggi ci occupiamo proprio di quest'ultima con tanti altri quiz estratti dal Talk E. Il test d'ingresso a Ingegneria. Benissimo, bando alle ciance, andiamo a leggere il testo. Due bacinelle rigide di uguale volume sono completamente riempite rispettivamente di ceci che sono assimilabili a delle sfere di un diametro medio bla 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 e dei fantastici pisellini, anch'essi delle sfere ma leggermente più piccole. Qui puoi vedere la mia bellissima rappresentazione grafica alla giotto di ceci e pisellini. Qual è approssimativamente il rapporto NC fratto NP dove? NC è il numero di ceci e NP il numero di pisellini? In essi i contenuti? Bene, inutile andare a guardare le risposte se non per il fatto che non mi andava ad iscrivere 857 miliardi di volte circa e ti ho messo delle bellissime stanghette, dei bellissimi apici per dire che qui c'è scritto comunque sempre circa. Ora, a meno che tu non voglia rispondere a casaccia e rischiare subito una fantastica penalizzazione beh, direi che è il caso di ragionare. E partirei da ragionare soprattutto dal fatto che ci sono di mezzo delle sfere quindi io prima di tutto devo ricordarmi come si calcola il volume di una sfera. Il volume di una sfera si calcola 4 terzi pi greco r al cubo. Questo è il volume tecnicamente di una sfera. Attenzione che qui all'interno di ogni bacinella noi non abbiamo solo ed esclusivamente una sfera ma ne abbiamo molteplici di sfere esattamente NC il numero di ceci ed NP il numero di pisellini. Esatto, quindi che vuol dire? Che questo volume tecnicamente sarà uguale al volume di un singolo cecio per capirci moltiplicato per il tutto il numero di ceci. Se ci sono tanti ceci tutti hanno lo stesso identico volume quindi di conseguenza sarà NC per il volume di un singolo cecio che sarà tecnicamente 4 terzi pi greco raggio del cecio elevato alla terza. La stessa cosa dicesi per il pisellino che in teoria non chiamo però tecnicamente volume cecio e volume pisellino perché? Perché questo è il volume delle bacinelle. le bacinelle hanno lo stesso identico volume sarà proprio l'elemento di raccordo, di collegamento che dovremo sfruttare se vogliamo capirci qualche cosa in più. Quindi NC per 4 terzi pi greco RC al cubo te lo metto tra parentesi e qui la stessa cosa NP 4 terzi pi greco R pisellino anche lui al cubo. Ora dov'è l'idea? L'idea tecnicamente è che se questo è V e questo è V questi si possono uguagliare. L'altro ragionamento è che però noi non abbiamo né il raggio del cecio né il raggio del pisellino tanto per complicarci un pochettino la vita ci hanno dato il diametro ma noi tutti dovremmo sapere che il raggio è esattamente esatto la metà del diametro. Grazie, tutto chiaro fin qui? Mi raccomando se c'è qualche dubbio lascia un commentino oppure mi contatti sulle mie pagine social ormai se mi segui da un po' lo saprai mi trovi su Instagram, mi trovi su Facebook insomma sempre a portata di click. Proseguiamo però. Quindi l'idea è di fare NC 4 terzi pi greco DC fratto 2 cioè il raggio ma riscritto attraverso il diametro tutto elevato alla terza deve essere uguale ad NP 4 terzi pi greco RP che però riscriviamo abbiamo detto come diametro stavolta diametro del pisellino fratto 2 tutto elevato alla terza e viva i pisellini con noi! Esatto! Ora però vedi che sta diventando complicato potrebbe sembrare un pochettino complicato qui devi giocare un pochettino con queste formule rovescia le formule anche tu, equazioni Ah sai cosa? Ho fatto un video interessante qua sopra proprio su come ricavare le formule inverse come girarle, come sfruttare magari se sei un po' arrugginito ti può dare una mano anche quello vallo a vedere però la cosa carina è che se questa la trattiamo come un'equazione 4 terzi pi greco e 4 terzi pi greco ciao ciao se ne vanno l'altra cosa interessante è che questo mi diventa NC uguale no scusa non uguale intendevo DC alla terza fratto 8 moltiplicato cioè ho svolto il cubo sopra e sotto e questo automaticamente mi diventa NP anche lui DP alla terza fratto 8 8 e 8 vanno a farsi una passeggiatina certo qui se non sai giocare con le formulette diventa veramente un po' più complicato però siamo qui lavoriamo duro e rimbocchiamoci le maniche esatto ora ci siamo quasi che dovevamo ricavare noi? beh dovevamo ricavare NC fratto NP perfetto se portiamo NP qui sotto direi che ci siamo questo invece lo portiamo sotto dall'altra parte quindi NC fratto NP uguale DP tu fratto DC tutto elevato alla terza e qui viene il bello cioè praticamente l'esercizio è finito o meglio te lo vado a circondare così magari te lo recuperi un po' meglio in mezzo a tutto questo casino ma in realtà il dato è tratto ho ricavato la formula che volevo ricavare che cosa manca? manca di inserire i numeri dice ma questi sono millimetri li devo portare in metri? no non ce n'è bisogno tanto millimetri fratto millimetri vanno via se fosse metri e metri andrebbero via lo stesso quindi sarebbe tempo perso e ricordati che il tempo è importante per svolgere il TOLKEI ricordatene che te ne ho parlato qui in questo video dove ho discusso tutte le caratteristiche le tecniche alcuni trucchi per agire meglio e comportarsi meglio all'interno del TOLKEI vattelo a vedere se c'è ancora qualche dubbio su come è fatto questo benedetto TOLKEI detto tutto questo quindi l'idea qual è? l'idea è banalmente di andare a fare che cosa? per poter calcolare questo di P abbiamo detto che è 6 fratto 8 tutto elevato alla terza 6 fratto 8 dovrebbe essere semplificabile come 3 quarti tutto alla terza e ricordati una cosa molto importante la cosa molto importante è che non hai la calcolatrice non puoi utilizzarla né se fai il TOLKEI a casa né se fai il TOLKEI all'università non lo puoi fare quindi di conseguenza devi saper calcolare a mente 3 alla terza fa 27 4 alla terza fa 64 quindi che vuol dire? non so più dove diamine scrivere però va bene questo è 27 fratto 64 ora la domanda è che tanto per semplificarci la vita qui a noi non ci hanno dato le frazioni ovviamente ci hanno dato i numeri decimali però 27 è un po' meno della metà di 64 che vuol dire? vuol dire che questo deve essere un po' meno di un mezzo un po' meno di 0,5 e andando a fare la tara l'unico che è un po' meno di 0,5 chi è? è certo è lui è 0,42 io spero che sia tutto chiaro passiamo al prossimo esercizio ma se c'è qualche dubbio o domanda come al solito lascia un commento qui sotto vai con la musica maestro cambiamo completamente argomento il rapporto tra peso specifico e densità di un corpo sulla terra è questo esercizio potrebbe sembrare clamorosamente banale eppure la gente lo sbaglia davvero tante tante troppo e volte perché? perché c'è confusione tra peso specifico e densità intanto io ti dico che se vuoi ripassare qualcosa sulla densità bam mi fai un salto qui e tutto dovrebbe essere un po' più chiaro spiegazione diretta facile e lineare per tutto il corso di fisica oserei dire in linea generale successivamente però mi devi fare soprattutto attenzione alla definizione di peso specifico che ti ho scritto qui peso specifico lo studiamo anche alla scuola media definito come peso fratto volume ma che cos'è il peso? cosa intendiamo con peso? no noi non intendiamo la massa intendiamo la forza peso forza peso fratto volume quindi la forza peso è definita come massa per g per accelerazione gravitazionale siamo sul pianeta da terra dice l'esercizio e quindi 9,81 metri al secondo quadrato ok? tutto chiaro? perfetto successivamente chi è la densità? quella che ti citavo prima che ti ho citato il video clicca lì sopra sulla i e vai a farti un giro rho di solito la indichiamo così la densità noi adulti sì nell'esercizio prima cecio pisellino tecnicamente era scritto con la D altra cosa che è valida però noi solitamente bambini adulti della fisica iuppi per noi la scriviamo con rho lettera dell'alfabeto greco la rho la densità è la quantità di massa all'interno di un certo volume massa fratto volume qui dice il rapporto tra peso specifico e densità quindi si tratta praticamente di andare a fare il rapporto tra questa quantità e questa quantità ovvero andare a fare questo fratto questo tradotto mg fratto volume fratto massa fratto volume ovvero mg fratto volume per volume fratto massa m ed m se ne vanno volume e volume se ne vanno che è rimasto g adesso ho fatto questo quanto ci hai messo un minuto due minuti perfetto è il tempo necessario che serviva ed è anche quello che hai a disposizione no problem viene fuori g che è costante sul penne da terra l'abbiamo detto prima quindi quindi uguale per tutti i corpi esercizio banale fatto tornare banale se ragioniamo nel modo corretto altro giro altra corsa vai di condensatore due condensatori sono collegati in serie e hanno capacità di un micro farad e tre micro farad applicando una differenza di potenziale di 100 volt una di queste affermazioni dovrebbe essere vera se negli esercizi precedenti ti ho detto non partiamo dalle risposte altre volte può essere importante abbastanza importante dare un occhio anche se veloce a tutte le risposte oddio questo è vero quasi sempre in generale per i quesiti di matematica fisica logica insomma vai devi sempre buttare un occhio può essere che la trovi al volo perché ti è familiare l'argomento allora parla di capacità equivalente di 4 micro farad a proposito se non dovresti avere tanta familiarità con questo micro micro siamo nell'ordine di mille micro nano tutti quei prefissi che tecnicamente sono per le unità di misura più basse più piccole micro siamo nell'ordine di 10 alla meno 6 quindi questo sarebbe 1 per 10 alla meno 6 farad 3 per 10 alla meno 6 farad questa dovrebbe essere una lettera dell'alfabeto greco che noi leggiamo micro farad però tecnicamente è una lettera dell'alfabeto greco che non si sa perché gli scientifici la chiamano mu i classici la chiamano mi insomma fate un po' come volete ma questo è dunque dicevo in teoria la situazione dovrebbe essere questa qui con due condensatori in serie e un generatore di tensione una batteria fondamentalmente se vogliamo da 100 volt ora i due condensatori in serie quello che devi ricordare è questo condensatori in serie significa che per il fenomeno di induzione elettrostatica hanno la stessa carica sulle armature ricordati che già un condensatore di suo queste si chiamano armature del condensatore avrà se qui una carica più Q qui una carica meno Q ebbene per tecnicamente induzione elettrostatica succede che si ha la stessa identica carica poi di qua anche sulle altre armature quindi stessa carica ma diversa differenza di potenziale cioè vuol dire che ai capi delle armature di questi due condensatori non c'è la stessa identica differenza di potenziale non c'è lo stesso identico voltaggio dillo come ti pare quindi se hai capito bene la spiegazione o ovviamente se c'è qualche dubbio lascia il commentino qua sotto e vieni via con me ok però la risposta dovrebbe essere facile i valori della differenza di potenziale dei condensatori sono diversi risposta C ovviamente se vai a provare a fare i calcoli per i condensatori in serie seguendo la regola dei condensatori in serie non viene né questa capacità equivalente né questa capacità equivalente e anche le altre risposte sono sicuramente sbagliate io ti ringrazio anche per questa simulazione di essere arrivato fino in fondo qui accanto trovi ovviamente tutto il resto delle simulazioni e qui la una delle altre precedenti simulazioni di fisica iscriviti al canale perché ne stanno arrivando tante altre ciao amico mio